Salve a tutti, sono Giacomo Bertini e sono felice di essere qui per mostrare il secondo tutorial per la sede di CoinMagic, vi mostrerò come poter eseguire il CoinPro. Ok, questa è la spiegazione del CoinRoll. Per iniziare a imparare bene è conveniente usare delle monete che abbiano la stessa proporzione di questa nella mia mano, per cui non usate monete molto grandi per imparare questa fioritura. Io uso mezzo dollaro d'argento americano, d'argento perché l'argento scivola meno e quindi è più facile. In questo modo io inizio tenendo la moneta sul pollice e l'indice in questa posizione. Ricordate bene perché le posizioni sono importanti. Per iniziare la moneta deve appoggiare in questo modo, poi scivolate la moneta in questa posizione. Vedete, fate questo scivolamento. Questo è lo scivolamento iniziale che magari non tutti sapranno farlo perfettamente, ma con un po' di allenamento potete farlo. Notate la posizione delle dita, le dita della mano devono rimanere sempre in questa posizione, abbastanza ferme, proprio come quando appoggiate la mano sul tavolo. Prendete la prima moneta, la tenete così e poi scivolate in questa posizione. Scivolate la moneta sopra l'indice, però notate bene che la moneta è appoggia quasi sulla nocca. In alcuni tutorial spiegano di mettere la moneta in questa posizione, ma in realtà la posizione perfetta è di inserire la moneta sulla nocca, quasi sulla nocca del dito indice. Poi andrà sempre nella posizione identica sulle altre dita. Dopo che avete messo la moneta in questa posizione, perfetto, ora qui potete in modo molto semplice e senza fatica andare a operare con il medio che toccherà il lato opposto della moneta e la farà scivolare direttamente. La prende, viene pinzata tra l'indice e il medio e la moneta va. Come vedete è sempre in una posizione speculare rispetto all'indice. Con l'anulare andate a fare lo stesso esercizio. Andate a prendere la moneta e la appoggiate sull'anulare. A questo punto la moneta appoggia sul dito anulare e ho leggermente sollevato il dito mignolo. Ok? Sollevato per cura prenderete direttamente la moneta con il mignolo, prendendo dal lato opposto, in modo che vada a cadere dentro, in questa posizione. Ok? Lo rifaccio rivedere. Prendete la moneta. Ok? La moneta casca in questa posizione e a questo punto è inserita tra l'anulare e il mignolo. La moneta in questa posizione può essere presa dal pollice. Vedete in che modo il pollice va a posizionarsi sotto la moneta che la prende direttamente così. A questo punto la moneta appoggia sull'anulare e appoggiando può essere scivolata sotto le dita in questo modo. L'altra parte, col colpastello del pollice, potete fare scivolare la moneta sotto le dita in questo modo. Ok? Ora vedete che la moneta è nella stessa posizione dove ho iniziato questa manipolazione. La stessa posizione. Io posso di nuovo andare e fare l'esercizio come avevo fatto all'inizio. Uno, due, tre. Vado a prendere. La prendo e la faccio scivolare. La moneta è sempre nella stessa posizione e scivola. Nocca. Due. Faccio lentamente. Uno, due, tre. La moneta scivola, viene presa direttamente e viene scivolata. Ok? Uno, due, tre. Uno, due, tre. Fatto molto velocemente l'effetto quasi è che la moneta cammina da sola. E questa è la spiegazione del coin. No. 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 No.